Il vincitore della prima serata cover del Yalotovua Music Festival è Alessandro Santa Caterina! Un campione, veramente. Premia l'assessore Maria Luisa Ollio. Giralo, giralo. Alessandro Santa Caterina, applauditelo tutti! Diceva che neanche al Tour Music Festival, il campione nazionale, ha fatto tutto questo teatro. Non importa, noi siamo così, siamo calorosi, siamo calabresi e questa è la nostra peculiarità. Grazie. 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 Grazie.